Bisognerà attendere ancora fino al prossimo anno per veder volare nuovamente lo Stella Maris, l'edificio a forma d'aeroplano costruito tra il 1938 e il 39 che dal 1984 giace inutilizzato e degradato sul lungomare di Montesilvano. Questa mattina il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco ha esposto il resoconto dei lavori del primo lotto dello Stella Maris e sottoscritto il protocollo d'intesa per l'istituzione del convitto per l'Ipsar Filippo De Cecco di Pescara. L'appalto complessivo è di 2,5 milioni di euro. Oggi è un giorno particolarmente decisivo, quello in cui assumiamo non solo l'impegno di concludere quel primo lotto che avevamo già consegnato ma di fatti parte anche la nuova procedura per la gara del secondo lotto. Il progetto definitivo esecutivo è quasi pronto e allo stesso tempo oggi abbiamo anche la possibilità di firmare una intesa, una convenzione tra la provincia di Pescara e l'istituto alberghiero De Cecco dove appunto si sancisce ufficialmente la fruibilità del convitto che sta appunto nascendo proprio qui allo Stella Maris che verrà reso fruibile per l'istituto alberghiero De Cecco. Noi paghiamo 145 mila euro l'anno di affitto per il convitto e dal 2019 noi questo affitto non lo vogliamo più pagare. Quindi abbiamo inteso concludere questa procedura con l'alberghiero. Allo stesso tempo qui nasce ciò che abbiamo detto circa un anno fa e cioè la colonia marina che aiuterà tantissimo la valorizzazione intanto di questo luogo perché non sarà soltanto ristrutturato come edificio ma anche tutti gli esterni quindi tutto questo parco esterno sarà attrezzato e reso fruibile alla collettività di Montesilvano e ci apprestiamo a mettere in campo una strategia anche gestionale che consentirà appunto la piena funzionalità dell'edificio Stella Maris.